Buonasera Quest'anno ho smesso di farmi le canne E la mia vita è cambiata Perché la droga dà, la droga toglie E quando fumavo la vita era più faticosa Però era anche più divertente Per esempio Le cose proprio della vita quotidiana Che me lo fanno capire sono le pubblicità Perché quando fumi Tutte le pubblicità sono bellissime Queste storie piene di colori Ti appassioni, le vedi Ah, ah, a quanto pare Federica Pellegrini va a ghiotta di pavesini Ma è interessantissimo Pazzesco Adesso guardo la stessa pubblicità e penso Federica che stai facendo? Ci sono gli zuccheri nei pavesini Comportali da professionista Ci devi portare altre medaglie Non sentirti libera da questo peso Federica Mi danno fastidio le pubblicità degli amari Adesso Perché perlomeno Le vecchie pubblicità del Montenegro Quello era chiaro a tutti Che c'era qualcosa che non funzionava dall'inizio C'è la band musicale che deve raggiungere il concerto Decidono di imbarcarsi su una zattera senza remi Sorpresa Non ce la fanno Però Fin lì Però adesso le pubblicità degli amari Sono sempre queste situazioni Tutti amici al picnic che si bevono l'amaro Ma invece quando ti bevi l'amaro È proprio una cosa tua La persona che stai là Te bevi l'amaro È una cosa Tu Tu te lo bevi l'amaro Eh si vede Questo Questo è il testimone pubblico dell'amaro Una persona qualche volta un po' timida Lui se lo beve l'amaro Si vede Tu sei perfetto Il volto di un amaro No Il gusto pieno della vita È una disgrazia l'amaro Grazie E le pubblicità che più di tutti mi danno fastidio Sono le pubblicità dei profumi Non tanto perché la sequenza delle immagini mostrate Non ti fa capire il prodotto pubblicizzato Che è una tecnica che ormai usano tutti Tu vedi la pioggia che cade Un lupo che ulula George Cloone in bicicletta Penna replay Va forte la replay Quando ero piccolo io Scrive, cancella, riscrive Adesso Cloone in bicicletta Hai capito? Questo mercato delle penne a sfera che si cancellano Incredibile Poi dice che l'Italia non funziona più Invece guarda la replay come va forte E le pubblicità dei profumi Invece Hanno Hanno sempre questa cosa fastidiosa Insopportabile Che Non ti dicono mai La cosa più importante di tutti Di un profumo Ma sto profumo Di che profuma? Cioè tu mi stai vendendo una boccetta Che contiene un odore Che mi devo mettere addosso E non mi dici Che odore è No Perché il gruppo marketing Delle aziende di profumo Pensa solo a inventarsi i nomi del cazzo Per cui vedi Acqua di Gio Ma che vuol dire Acqua di Gio? Paco Rabban presenta Million Million è un numero Paco Il mio preferito è Laura Biaggiotti Presenta Roma Signora Biaggiotti Roma è una città Non è un odore È un posto fisico Magari Cosa mi sta cercando di dire Signora Biaggiotti Che è riuscita a catturare L'essenza di Roma? Non mi sembra una grande idea Signora Biaggiotti Perché Bellissima città Magari la più bella del mondo Però non esistono due turisti Che dopo essere stata a Roma Dico no Roma Bello il Colosseo Belli fuori imperiali Un profumo Mai successo Mai successo E le peggiori di tutte Però sono le pubblicità Di profumo per uomo Al cui interno Ci mettono un uomo Perché allora In teoria io sono il bersaglio ideale Di una pubblicità Di profumi per uomo Uomo 25 anni Single Il profumo giusto No? Mi svolta Il fine settimana Con questo Perché le donne La prima cosa che usano È l'olfatto Per riconoscere Forse lui La prima cosa E questi Nella pubblicità Mi ci mettono Un uomo Depilato Muscoloso Bellissimo In mutande Che esce dall'acqua Bagnatissimo Si sdraia su una barca A prendere il sole E mi guarda Ma che vuoi? Ma io con questa pubblicità Come mi ci devo relazionare? Ma chi è questo? Ma è forte a calcetto Ma chi sei? E adesso Adesso è uscita La pubblicità Proprio hanno tappezzato Tutte le città La pubblicità di Fastweb Che ha come testimonial Usain Bolt No? Questa è la mia fibra Ora Io capisco Dare l'immagine Della velocità Per internet Però Usain Bolt Che cazzo c'entra Con internet? Cioè se io ho un problema Col modem Chiamo Usain Bolt Usain Usain Yes my No my modem Is not working Usain What do I do? I need to watch a video Of a cat on a skateboard Usain It's very important It's very What do I do? It's your fibre It says on the comment Usain mi ha detto Ah stupido Stacca e riattacca il router Grazie mille No my no It's veryjcie for you There are Grazie a tutti.